buongiorno carissimi amici rossella ad magica codi sono la magia del cuore io vi ringrazio sempre della vostra fedeltà vi ringrazio dei pollicini vi ringrazio per le condivisioni per gli abbonamenti e sapete che se mi mandate un messaggio vi rispondo sistematicamente adesso andiamo a vedere un po una lettura per questo weekend del 23 24 luglio lettura generale cari amici quindi parlerà chi deve parlare prendete ciò che risuona con voi l'energia che è uscita per questa per questo weekend è l'energia della paura ok allora cosa ci dice l'energia della paura dice semplicemente cari amici che la paura è la peggior degli emozioni perché lei ci frena e non ci impedisce di accompiere tutto ciò che vorremmo noi le vostre guide vostri angeli siamo ai vostri fianchi e potete fare appello a noi vi proteggiamo non avere paura rassicuratevi e risentite la nostra protezione dimenticate le paure e fonzate insomma con tanto amore con tanta energia andateci testa in giù insomma avanzate cari amici non fatevi ritenere dalle paure siete protetti e comunque dovete sempre liberarvi di quello che vi ritiene adesso partiamo proprio con l'energia dominante durante questo weekend per qualcuno di voi e ci abbiamo la carta del carro il carro che può rappresentare qualcuno dei segni del cancro ma non solo e questa carta cari amici ci sta proprio a dire che c'è qualcuno che durante questo weekend ma poi essendo comunque energia qualcuno ha già cominciato qualche giorno insomma prima dopo c'è qualcuno che desidera veramente e alla determinazione di riprendersi la propria vita in mano di andare verso una riuscita quindi da uscire da queste paure uscire da questa da queste cose che insomma vi ritengono un po che vi vi bloccano per la paura lo sapete che blocca ma c'è un qualcuno che desidera comunque liberarsi da queste paure per riprendersi il controllo della vita ma non solo con questa carta del carro si parla di azione di determinazione di vittoria di un viaggio e di controllo allora cosa c'è arrivato sopra le aperture per qualcuno sono proprio segni che vi sono inviati dall'universo in sola e insomma sono proprio è il vostro destino ci saranno delle nuove opportunità per riprendere il controllo della vostra vita e per riuscire e per uscire da queste paure ma probabilmente sono proprio queste nuove opportunità che poi possono toccare tutti i campi e sentimentale relazionale familiare professionale progetto tutto probabilmente per qualcuno sarà confrontata a queste paure proprio perché ci saranno queste nuove possibilità possibilità che mi mettono paura anche se avete la determinazione di andare avanti e di riuscire dovete combattere con le vostre proprie paure per questo qualcosa di nuovo che si apre a voi ora vediamo nel sentimentale quindi la vita di coppia allora due cose cari amici c'è chi festeggerà questo weekend un qualunque cosa nascita matrimonio un barbecue andare a mare insieme comunque condividere dei momenti davvero piacevoli di gioia con la famiglia con gli amici con i colleghi di lavoro con il partner però ci sarà un qualcosa da celebrare in relazione alla vostra relazione e quindi momenti di condivisione veramente di tanto benessere questa carta però ci può parlare anche di triangolare quindi vuol dire che magari siete in una triangolare quando parlo di triangolare vuol dire che c'è un qualcuno che ha due persone nella sua vita magari una relazione extraconiugale che sia di passaggio oppure no ma la triangolare parla di essere con due persone quindi siete in tre c'ho la carta della fortuna allora ci sono coppie che vi ho detto che festeggeranno questo weekend quindi ci sono coppie che hanno tanta fortuna davvero è veramente questa grande chance che vi sostiene che vi protegge che vi avvolge e da qui comunque delle relazioni che sono molto stabili relazione che passate davvero momenti insieme bellissimi e che poi li condividete anche con le persone che amate in canto accanto a voi per altre si può parlare con questa fortuna e celebrazioni di avere questa grande fortuna questo weekend di celebrare un qualcosa con la vostra compagna il vostro compagno marito moglie poco importa comunque per qualcuno relazione molto stabili molto belle e anche condivise con altre persone e con delle celebrazioni che accadranno proprio questo weekend in legato proprio alla vostra coppia la dove c'è la triangolare tanta fortuna non è probabilmente ciò che vi fa paura perché sapete che a un certo punto dovrete comunque fare una scelta perché non si può vivere a tre voglio dire non si può vivere ecco due mariti o due compagni o due compagni e due mogli ecco quindi probabilmente ciò che vi guarda in questa paura perché comunque state vivendo una bella relazione ma questa relazione comunque sapete che prima o poi dovrà prendere fine o con questa persona o con la persona con cui vivete ma sapete che a un certo punto insomma la situazione dovrà cambiare e probabilmente vi fa paura perché vi state state capendo forse per qualcuno che questa relazione prende davvero molta importanza e che vivete dei momenti veramente gioiosi con questa persona adesso vediamo nelle relazioni in generale allora qua ci sono dei conflitti ci sono delle difficoltà e si può parlare di tradimento ma qua il tradimento ci può stare che siete voi che l'avete fatto nel senso che c'è questa triangolare o allora semplicemente avete un conflitto con qualcuno della famiglia un collega un amico poi adattate e questi conflitti comunque vi fanno paura vi ritengono vi mettono quest'ansia allora con la carta della fecondità cari amici la carta della fecondità è una carta che è influenzata dalla luna la luna può rappresentare qualcuno dei segni dei pesci ma non solo perché siamo in una lettura generale quindi la luna parla proprio di tradimenti di cose nascoste di verità nascoste di paure di ansie di zone oscure insomma di qualcosa di sombro però c'è un qualcosa che è in gestazione quindi questo qualcosa in gestazione che potete adattare in tutti i campi comunque prende la vita ci vuole un po di tempo un po di pazienza ma è in gestazione quindi sta già lì piccolo piccolo ma sta già lì allora per qualcuno è possibile che ha paura perché probabilmente se siete in una triangolare probabilmente la vostra amante aspetta vi annuncerà una gravidanza questo che vi metterà tutta questa paura e dovrete affrontarle queste paure per accogliere un qualcosa di nuovo per riuscire nella vostra vita e per riprendervi il controllo comunque della vostra vita senza dover vivere sempre nella paura quindi per qualcuno può essere questo poi si può parlare anche di lavoro magari se avete un sogno da realizzare se c'è un desiderio sul lavoro un progetto c'è un progetto in gestazione ma probabilmente qualcuno non ha il sostegno delle persone che gli stanno accanto e quindi probabilmente ciò vi dà questa questa paura perché forse vi chiedete se ce la facete da soli il fatto di non avere quel sostegno comunque morale vi fatica vi fa fatica vi fa paura perché magari poi dubitate un po quindi per qualcuno c'è un qualcosa in gestazione che può toccare il relazionale e può toccare il professionale il materiale è in gestazione quindi comunque prenderà vita ci vuole solo un po di tempo ma arriverà comunque questo che deve arrivare per il momento vi fa paura o è una l'annuncio di una gravidanza per qualcuno o comunque sono litigi in famiglia o con amici che sapete che prima o poi dovrete affrontare per cercare di trovare una situazione e quindi questo vi mette paura ma comunque finirà bene perché è in gestazione quindi la cosa si aggiusterà poi adattate e sei in un progetto perché non vi sentite sostenuti quindi vi sentite traditi traditi perché le persone non sostengono quello che voi desiderate volete riprendervi il controllo della vostra vita ma non vi si capisce e quindi da qui queste paure da affrontare adesso vediamo giustamente sul lavoro sul lavoro e il professionale materiale finanziario tutto insieme per qualcuno si parla veramente di tanta stabilità di tanta sicurezza di tanto amore quindi abbiamo visto che nel relazionale ci sono nel sentimentale ci sono delle coppie che sono quindi molto affiatati che si sostengono che hanno saputo mettere su una sicurezza una stabilità con tanta armonia e c'è voluto tanto tempo per costruire questa stabilità questa sicurezza e questa felicità grazie alla coppia quindi nel materiale e poi c'è un qualcuno che vive comunque un lavoro che gli piace che fa con amore che ha trovato il suo equilibrio ci ha messo un po di tempo ma ci è arrivato e per qualcuno invece proprio il contrario nel senso che ci vorrà un po di tempo per realizzare un progetto o perché la situazione comunque sia stabile e armoniosa quello che avete cosa dovete fare insomma per affrontare queste paure allora io so qua la carta della morte l'arcano numero 13 e qua questa questa carta qua che comunque vedete anche qua ci sono le paure c'è la luna qua vi si dice proprio che dovete mettere fine a un qualcosa c'è una transizione c'è un cambiamento ma il cambiamento l'abbiamo con queste opportunità è probabilmente ciò che qualcuno fa paura questo cambiamento mettere fine a questo qualcosa per poter andare verso un qualcosa di nuovo ma non potrete impedirlo ci sarà una transizione ci sarà un cambiamento c'è un qualcosa sulla quale dovete mettere un punto finale questa è la fine di un ciclo per un nuovo ciclo sopra c'è la corrispondenza c'è un qualcuno che in questo weekend da lì verranno le paure perché avete una chiamata una lettera un sms una mail incontrato in qualcuno comunque che vi dirà un qualcosa e questo vi metterà tanta paura forse all'annuncio di questa gravidanza estraconiugale ma può essere anche il fatto di apprendere che non si sostiene in un progetto o perché fate delle nuovi incontri ci saranno delle opportunità e queste opportunità possono farvi paura non so perché ho tirato una carta in più ma voi sapete per coloro che mi seguono che quando succedono cose così c'è sempre un messaggio e questa carta parla proprio di vittoria di riuscita quindi cari amici poco importa quale sono le paure che avete che dovete affrontare perché questo è il consiglio degli angeli di non aver paura di affrontare le vostre paure siete protetti vincerete dovete solo avere quel coraggio di affrontare le vostre proprie paure dovuto a qualcosa che apprendete dovuto a qualcosa di nuovo che si presenta a voi dovuto a qualcosa una situazione una relazione che metterà luce su qualcosa ma comunque andate verso una riuscita il consiglio sappiamo proprio pesare il per e il contro per trovare un equilibrio e qua c'è la carta del ritorno allora il ritorno cari amici può essere un qualcuno della famiglia che ritorna qualcuno che magari stava lontano per lavoro non lo so può essere un bel ritorno ma per qualcuno può essere un ritorno che fa paura che fa sì che vi rinchiudete probabilmente un qualcuno di chi avevate paura per qualcun altro può essere una persona che viene si scusa con voi per altre persone si può parlare di riconciliazione di un ex o di una ex che ritorna per qualcuno si parla anche di ritornare su una decisione presa che ne so avevate deciso di traslogare ma adesso ci ritornate sopra non traslocate più per qualcuno può essere proprio andare ritornare alle radici alla base insomma da dove tutto comincia per poter spiritualmente liberarsi da queste paure quindi adattate ma questa è la carta di un ritorno qualcuno che ritorna nella vostra vita che vi procurerà gioia e che dovrete festeggiare perché per fortuna non tutti viviamo la stessa situazione relazione quindi qualcuno festeggerà il ritorno di qualcuno e si ritrova anche un equilibrio nella famiglia in amicia in amicizia per qualcun altro c'è qualcuno del passato che torna questo è legato a un passato vicino quindi un qualcuno che torna un qualcuno che può tornare per una riconciliazione o qualcuno che torna comunque per scusarsi per voi o allora è legato proprio a voi fare un ritorno proprio andando andando alle proprie radici connettarsi con se stesso riavvicinarsi al divino per sorpassare queste paure per qualcun altro si può parlare di un cambiamento di situazione nel senso che avevate deciso un qualcosa e che finalmente ci siete tornati sopra avete cambiato idea vedete come vi si parla ma la lettura comunque positiva certo che per coloro che sono in una triangolare bisogna fare una scelta bisognerà fare una scelta e quindi affrontare le vostre paure per fare la scelta del cuore e per coloro che per un qualunque ragione magari dovuto a un cambiamento forse fate un incontro questo weekend che vi farà paura perché che ne so sapete che è forte che può portarvi a un cambiamento generale nella vostra vita un nuovo lavoro un progetto un qualcosa c'è un qualcosa di nuovo che voi comunque siete determinati a ottenere perché volete riuscire nella vita volete approfittare di queste possibilità però ecco avete queste paure probabilmente paura dello sconosciuto nel senso di non sapere a cosa andate incontro forse ci sono queste paure perché relazionalmente non vi si sostiene su questo progetto che è in gestazione che ci vuole un po di pazienza per metterlo alla luce e quindi ecco tutto ciò vi mette un po questi difficoltà ma probabilmente con voi stessi e ma generalmente comunque non è non è non è proprio brutta questa lettura perché si resume a due parole insomma gli angeli ve lo dicono questo è proprio il messaggio dell'oracolo di affrontare le proprie paure per poter andare verso un qualcosa di nuovo perché proprio il destino che ve lo mette sulla strada dovete solo riprendere il controllo della vostra vita riprendendo il controllo della vostra vita affrontando le vostre paure riuscirete ad andare lì dove volete e festeggiare vittoriosamente questa riuscita che toccare tutti i campi però ecco dovete uscire da queste paure perché se no un cavallo va a destra l'orta a sinistra voi andate di fronte a un muro quindi riprendete il controllo della vostra vita c'è un qualcosa di nuovo per qualcuno che può toccare tutti i campi sentimentale relazionale professionale progetti in qualunque cosa un qualcosa di nuovo che per il momento però vi fa paura quindi dovete affrontare quelle paure per finire con l'energia del mandala vedete qua diventato un osservatore per avere una migliore vista dell'insieme della situazione che vi fa paura cambiate le prospettive fate un passo indietro e diventato osservatore cambiando la percezione della situazione caro amici potete trovarci delle risposte affrontando le vostre paure potete vedere la situazione differamente quindi siate sempre all'ascolto di voi e questa è la lettura per questo weekend del 23 24 luglio io vi auguro di trascorrere un bel weekend caro amici vi ringrazio sempre ancora per la vostra fedeltà per le condivisioni per i pollicini per i commenti ai quali rispondo sempre e per le condivisioni prendete sempre cura di voi se avete bisogno di una lettura particolare di un aiuto al risveglio personale spirituale di affrontare una situazione di imparare a vivere differenze insomma tutte queste cose qua mi potete contattare ad magica codi su 1 chiocciola b box punto fr buon weekend caro amici ciao